Adotto un amico è la campagna di sensibilizzazione avviata dall'amministrazione comunale di Sciacca e finalizzata all'adozione dei cani. Sono circa 200 gli animali abbandonati o in stato di randaggismo catturati negli anni e custoditi nei due canili di Sciacca e Sambuca di Sicilia convenzionati con il comune. Il sindaco Fabio Termi e l'assessore al randaggismo ai diritti degli animali Agnese Sinagra invitano gli amanti dei cani a farsi avanti da Sciacca e da qualsiasi altra parte d'Italia per dare il conforto di una casa e di un affetto agli animali. Sul sito istituzionale del comune di Sciacca è stata creata una sezione denominata Adotto un amico, già contenente le prime schede dei cani adottabili con la loro immagine, il nome, il sesso, la taglia, la razza e la data di nascita. La pagina verrà aggiornata costantemente con nuove schede. I cani sono già sterilizzati e microcippati. Gli amanti dei cani possono consultare le schede sul sito del comune di Sciacca per scegliere l'amico da adottare e portarsi a casa in famiglia oppure recarsi in uno dei due canili convenzionati per scegliersi un altro animale. La procedura di adozione è veloce. Gli interessati per maggiore informazione e per avviare le pratiche di affidamento possano contattare l'ufficio randaggismo del comune di Sciacca.